Ciao ragazzi, l'altra volta vi avevo accennato che avrei fatto un video per spiegarvi che cos'era questo nastro manubrio. Questo nastro manubrio è, guardate bene attentamente, una camera d'aria usata. Bene, avete capito bene ragazzi, una camera d'aria usata, tagliata a metà e messa come nastro manubrio. Qualcuno dirà, ma non avevi i soldi per comprare un nastro manubrio. No, non è questo il fatto, il fatto è che spendevo sempre sui 10, 12, 13 euro per un nastro manubrio e più o meno la durata era di un paio di mesi. Mi ero stancato e ho voluto provare questa invenzione, che sicuramente l'avrà inventata qualcun altro, però io non lo so, l'ho fatta da me. Ha un grip eccezionale, soprattutto nel bagnato. La cosa buona che cos'è? che praticamente quando si sporca la potete levare, lavare e rimettere a posto. È veramente ottima. Non so se quest'altro video vi è piaciuto. Vi ringrazio per le vostre visualizzazioni, mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratis. Ciao ragazzi e al prossimo video. Ciao.